Buongiorno a tutti, ecco i piccolini che stanno tra casa, questi sono tutti freddolosi, che figurati, non tanti piccoli, ma questi qua che stanno sul divanetto. Eccoli, ciao, ciao amore, ecco la mamma, e invece c'è chi sta fuori, eccola Lexi, ciao Lexi. Buongiorno a tutti, che cosa vuol dire? Con la mamma, sì certo, 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 ecco un po' che rientrano, che mamma dice sempre, adesso faremo la gattaiola, anzi la cagnaiola, in maniera tale che riusciamo a non infreddare tutta la casa. Vero ragazzi? Guardate che, queste sono le mie orchidee, scusate, il momento di vanto sulle mie orchidee, guardate questa quanto è bella. E quanti fiori, io non vedo l'ora che i venti mi coprano il terrazzo, in maniera tale, quello sopra, che le posso allargare un pochino, perché povere stelle, sono un po' tutte, è un po' un affollamento di orchidee, un orchidume. Eccoci qua, no, guardate che brutto tempo sta venendo su, anche qua, eccoci, stiamo giocando fuori? Ciao Several, abbiamo fatto dei bisognini, adesso mamma viene a pulire. Guardate i piccoli, piccoletti, piccoletti, andiamo dentro che fra un po' piove, tutti dentro, tutti dentro che fra un po' piove, andiamo? Bambini, dai, allora noi vi salutiamo, iniziamo a prepararsi da mangiare, oggi sfornato di patate con certosa, detto così sembra pure fico, in realtà sono patate lesse, pigiate, e messo sul certoso e messo dentro ancora un pochino nel forno. Però, è vero, sfornato di patate con certosa, faceva effetto. Vi saluto tanto, arrivederci!